L'operazione condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma dimostra la stretta vicinanza dell'arma alle esigenze di sicurezza del territorio e in particolare fa riferimento alla presenza nel quadrante sud-est della capitale di organizzazioni finalizzate al traffico di stupefacenti che vedevano Roma come epricentro di traffici illeciti, in particolare riferibili allo smercio di marijuana ed hashish. La presenza e la capillarità delle nostre stazioni carabinieri su tutto il territorio di Roma e provincia ha consentito di cogliere per tempo dei segnali di traffici illeciti e intervenire conseguentemente sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma.